Nella sesta giornata di ritorno del campionato allievi regionali sperimentali, l'Atena supera sul neutro di Campofrango il Junior e Belpasso per 2-0 grazie alle reti di Davide Monella e Iagia Sabarre. Con questa importante vittoria, la squadra allenata dal duo Alfredo Talendi e Mauro Miciche si porta a ridosso della zona playoff, a pari punti con il Junior e Catania. La squadra bianca-azzura per la settima giornata di ritorno non scenderà in campo per un turno di riposo come previsto da calendario. Ritornerà in campo il 31 marzo sul neutro di Campofrango per sfidare i ragazzini. La classifica vede al comando il Real Catania con 38 punti, segue i ragazzini a 34, San Catartese 27, Trinacria 23, Junior Catania e Atena 21, Libertas Narinandes 19, Academy Catania Soccer 18, Real Trinacria 13, Junior Belpasso 12, chiude Gattopardo Palma con 11 punti.